Negli ultimi anni internet e le nuove piattaforme tecnologiche stanno modificando i modi e le modalità di fare informazione. Quanto è giusto che un certo giornalismo tradizionale, quello della carta stampata e quello radio televisivo, si adattino a queste nuove modalità e quali sono i rischi di questo adattamento? Ma non è che ci possa essere giusto o sbagliato. C'è una realtà dei fatti di cambiamento e sarebbe stupido non adattarsi. Bisogna adattarsi, cambiare i ritmi, cambiare anche in un certo senso il modo di comunicare, essere capaci di comunicare in modo più diretto e più semplice. Però non devono cambiare quelli che sono i parametri fondamentali del giornalismo. Se il giornalismo di internet deve essere associato con la superficialità e con una poca affidabilità, allora non è un giornalismo che avrà grande futuro e che andrà lontano. Invece bisogna essere capaci di portare sulle nuove piattaforme, che possano essere internet, telefonini, ipad, ovunque, la stessa serietà e la stessa credibilità che dovrebbe avere il giornalismo tradizionale. Perché poi non è che sempre il giornalismo su carta è credibile e affidabile. Ma bisogna puntare almeno a quell'ideale che c'è sempre stato nel giornalismo. Quello del sit-in-journalismo in questo momento è uno dei fenomeni di cui le testate ufficiali comunque non possono fare a meno e di cui non possono ignorare. Come viene inglobato in un discorso di buona informazione e come dovrebbe essere gestito dalle testate più autorevoli? Secondo me dovrebbe essere gestito creando delle interazioni soprattutto sui siti web dei giornali. Sarebbe però sbagliato pensare come è successo negli ultimi anni che il sit-in-journalismo è qualcosa che può sostituire il giornalismo tradizionale. Non perché io pensi che il giornalismo tradizionale debba essere una casta a cui partecipano solo alcuni. Ma perché penso che il fatto che ci siano dei professionisti che fanno come mestiere quello di cercare notizie, di approfondire sia ancora un valore. Nessuno di noi si affiderebbe a qualcuno che fa il medico soltanto due ore al giorno ma cerca un professionista. E così l'informazione è qualcosa che ha bisogno di una esperienza e di una professionalità. Una cosa che mi ha colpito dell'intervento della Presidentessa dell'EBU è stata questa sorta di diffidenza da parte di una certa parte dell'opinione pubblica nei confronti del giornalista come professionista. Che cosa ne pensa? Ci ha presentato una divertentissima e bellissima ricerca in cui dice che il giornalista è ritenuto credibile soltanto dal 3% della popolazione. In questo caso si riferiva alla Svizzera ma penso che la cosa possa essere in tutto il mondo. I tassisti il 4%, l'unica cosa che rincuora i giornalisti è che gli assicuratori e i venditori di automobili stanno sotto di loro al 2% e i politici sono gli ultimi della scala soltanto all'1%. Questo ci deve far capire che troppo, soprattutto negli ultimi anni, in nome della velocità, della rincorsa, dello scoop e del sensazionalismo, troppo si è fatto un giornalismo superficiale, troppo è stata messa da parte la ricerca invece della qualità e della credibilità che devono essere invece le bussole per il futuro.